Siamo negli studi di Ascan News con Vittorio Meloni che è responsabile delle relazioni esterne di Intesa San Paolo. È un professionista della comunicazione e fa parte di ADS, società che certifica la diffusione della stampa quotidiana e periodica ed è anche membro di Auditel e nonché del direttivo di UPA, la società che riunisce le aziende che investono in pubblicità sui media italiani. È appena uscito un suo libro molto interessante, Il crepuscolo dei media, nel quale lei Meloni delinea un mondo, quello dei media chiamiamolo così tradizionali, che alla fine individua un nuovo mondo, quello dominato da Internet, dai colossi della Silicon Valley e in particolare dai social network, i cui contorni però sono ancora tutti da definire. Sì, non so se il mondo dei media sia alla fine. Sicuramente è investito da una crisi molto profonda. Tutti gli indicatori che io ricordo parlano chiaramente di un'accelerazione che c'è stata soprattutto negli ultimi 10-15 anni. Una crisi che quindi può mettere a rischio il modello di business, non solo il contenuto in quanto tale. Parlo soprattutto di informazione, sia sulla carta stampata ma anche su grandi e potenti mezzi come la televisione. E' un crepuscolo perché il crepuscolo è quel momento della luce che precede il tramonto, ma potrebbe anche precedere l'alba di un'era nuova, che è fatta da nuovi protagonisti per un pubblico nuovo. Noi li chiamiamo social o mondo digitale, ma è qualcosa che sta nascendo sotto i nostri occhi e che ha assorbito già moltissimo del mondo dei media tradizionali. Per un'azienda editoriale quale potrebbe essere un modello di business? Diciamo, uno nuovo certificato così paragonabile a quelli che abbiamo alle spalle non esiste, perché è un mondo in totale trasformazione. Ci sono degli esperimenti in corso di alcuni grandi brand internazionali che vogliono sopravvivere continuando a fare il mestiere del giornalismo di alto livello. Io cito il New York Times, il Financial Times, il Wall Street Journal, esempi che non sono italiani e solo uno è parzialmente europeo, in cui la scelta è stata di spostare su contenuti esclusivi il proprio modello di business, rinunciando, almeno nell'intenzione non è ancora così, progressivamente al ricavo pubblicitario. Questo avviene però perché sono brand estremamente autorevoli nel loro mercato e che possono puntare a vivere di contenuti. Difficile applicare questo modello a tutte le realtà editoriali tradizionali, difficile anche applicare modelli nuovi al mondo televisivo, che è un mondo assediato da tanti nuovi protagonisti, che non si avvalgono nemmeno delle tecnologie trasmissive tipiche della televisione, perché possono sfruttare leti libere a costo zero come le reti di telecomunicazione. Quindi è un mondo in cambiamento, molto pronunciato, però non ci sono ancora dei nuovi canoni. Ecco, è una cosa che lei sottolinea nel libro, appunto questo panorama mutato, in particolare per quello che riguarda i giovani, che i giornali non li leggono più. Passano parecchio tempo davanti al video, ma è un video un po' particolare, non è più la televisione che noi conosciamo, si parla di smart tv, ma soprattutto si parla di device portatili, cioè sia i tablet che i telefonini. Quindi bisogna confrontarsi con questo tipo di pubblico, perché è un turnover che sarà diverso. Sì, non c'è dubbio. L'informazione tradizionale della stampa quotidiana periodica ormai si è addensata sopra la media dei 60 anni d'età. Quindi chiaramente si è polarizzata anche da un punto di vista anagrafico. Sotto si dirada fino a scomparire. I cosiddetti giovani non guardano più neanche la televisione, perché, come dico nel libro, il 55% di loro ha lasciato la televisione negli ultimi dieci anni, proprio nella fascia dei 18-34 anni. Leggevo un'indagine, che non cito perché è uscita dopo, fatta tra gli studenti universitari, quindi popolazione colta italiana, l'80% di loro non guarda la tv. Quindi parliamo di un fenomeno globale, non solo italiano, che poi, diciamo, in Italia è aggravato da alcuni fenomeni tipicamente italiani, di scollamento di intere generazioni, ormai due, non solo una, dal sistema, dalla filiera dei media tradizionali. Però questi non sono disinformati, si informano in un modo eclettico, se vogliamo disordinato, meno uniforme, ma si informano. Si informano attraverso le reading list, attraverso Facebook, che è un grande distributore di contenuti mediatici, e tante altre piattaforme che fanno una specie, si dice in inglese, cherry picking, cioè di scelta più o meno spontanea di contenuti da proporre ai propri utenti. Quindi l'informazione, anche quella, diciamo, tradizionale, in parte rifiorisce, senza però produrre ricavi per chi la fa, dentro il mondo social. Questo è un po' il momento che sta attraversando il sistema. Dipenderà molto dalla capacità di resistere nel mondo attuale, diciamo, trattenendo intorno al proprio brand i propri clienti, che sono poi lettori o spettatori di televisione. Questo è molto difficile perché tutto il resto del mondo è praticamente gratuito. Ecco, vediamo un punto che a me poi sta particolarmente a cuore. In questo mondo dominato appunto dal cherry picking, da un'informazione che diventa sempre più liquida, allora il ruolo del giornalista diventa fondamentale, appunto per sapere individuare, discernere e proporre informazioni attendibili, e diciamo così, vere o veritiere. Assolutamente. Io, tra l'altro, non entro nel merito del giornalismo come professione, si sollevo qualche interrogativo relativo soprattutto ad alcune scelte editoriale, ma credo che il giornalismo, lo credo personalmente, non sia messo in discussione da questa rivoluzione. Perché uno dei contenuti più consumati dentro la rete è proprio l'informazione. E oggi più che mai si assiste a uno spostamento verso la ricerca di fonti autorevoli. Il problema è che ancora non si è capito come utilizzare giornalismo di qualità, credibile, professionalmente attendibile, dentro un mondo che al momento riconosce solo di rado un valore economico all'informazione. Però in linea di massima, nella prospettiva diciamo che avrà lo sviluppo della rete, sarà inevitabile avere un contenuto informativo di qualità. Perché come vediamo già oggi, questo è tornato ad essere un elemento di scelta, magari non per tutti. Dobbiamo sempre dire, peraltro, che l'informazione non è mai stata per tutti, è sempre stata una cosa abbastanza, diciamo, elitaria. Oggi c'è la possibilità di espanderla verso un pubblico più grande, certo mischiandosi a un flusso di altre cose che non hanno gli stessi requisiti dell'informazione. Ma io credo che in quel mondo il giornalismo avrà un ruolo decisivo.